eccoci questa è un'altra delle mie pagine pagine per gli uomini che ho sempre su facebook io ho 16 pagine su facebook perché mi occupo di tutto sono influencer ma è consulente legale battaglie legali moda filosofia tante cose quindi questa è una specie di pubblicità che faccio su facebook e le tematiche sono sempre anche molto forti poi ci sono anche le pagine tipo queste per gli uomini o per la moda che sono molto più frivole e ovviamente non sono con le tematiche corruttive che è quello che diciamo la mia battaglia fondamentale comunque anche questi post e queste pagine mi danno la possibilità di farmi conoscere e di far stare bene anche le persone che hanno le mie stesse idee problematiche ma anche chi come me si diverte ciao amici